ciao ragazzi allora vi spiegherò come inserire il tasto abbonati dovete andare sulla home page di youtube tasto qua fare impostazioni vedi le altre funzioni community abbonamenti abbonamento al canale vantaggi personalizzati e qui vi uscirà una schermata dove inserire varie descrizioni e poi vi uscirà il tasto revisiona dopo aver fatto questo dovete attendere meno di 24 ore per essere approvati come c'è scritto qui generalmente entro 24 ore dopo di che vi arriverà un'email da youtube e potrete attivare il tasto qua ci sarà il tasto attiva beh ragazzi che dire questo è stato un video molto breve alla prossima grazie a tutti 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 Grazie a tutti.